Un po' di agitazione c'è? Tranquilla, tranquilla. Grazie a tutti. 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 di tutto questo e ha inserito questi fotografi in un periodo storico molto preciso, quello che va dal 1930 al 1960 e è quel tipo di fotografia sociale, diciamo, che veniva realizzato per le strade di Parigi dai fotografi parigini e da quelli che lo erano diventati come Cartes, Brassei e altri. Allora, invece, nel 1994 esce un libro che come vedete è terribilmente corposo. Allora, questo libro, An History of Street Photography, è in realtà pensato da Joel Meyerowitz, questa è la copertina con una bella foto di Alex Weld, e qua dentro ci sono tante cose, c'è proprio una storia di come questo genere fotografico sia nato e sia quindi ufficialmente nato con questo che è il manifesto della fotografia di strada. Da questo momento in poi nascono quei gruppi importanti, adesso senza anche citare tutti quanti, ma dal 94, 95, 96 nascono dei gruppi di fotografi che nel 2010, nell'ottobre del 2010 trovano, diciamo, la strada, l'autostrada su cui corre, che è Instagram, no? Ed è un... Instagram è un qualche cosa su cui tu... Hai voglia. No, io volevo giusto dire due cose prima rispetto al fatto che Duanot, Cartier-Bresson e mille altri non siano da ritenere fotografi di strada. Diciamo che è un argomento conteso, nel senso che sicuramente il manifesto della street photography nasce con quel libro e quindi in tempi molto più recenti, però è vero che la fotografia sociale in fondo è la street photography. Certo, loro non sapevano di far parte di quella corrente lì, però la fotografia sociale è la street photography, è veramente, diciamo, sono i padri della street, loro, no? Ecco, sì, sì. E sì, diventa un po' un, come dire, un gioco di termini e di anni, evidentemente, però quando si va a leggere alcuni testi, la storia della street la fanno proprio partire dagli anni 60, alla fine degli anni 50, quantomeno con Robert Frank, con The Americans, no? Con questo modo nuovo di fotografare e quindi si è passato proprio da una fotografia di studio a una fotografia fuori dallo studio, libera, ed è quella che sta continuando adesso con... Sì, però non c'è una confusione allora con i reportage, perché The Americans è in realtà un reportage, è assolutamente, credo che ci sia un confine molto labile tra la street e la fotografia sociale, il reportage, è veramente, credo che sia un termine un po' ambiguo e un po' troppo anche ampio, no? Quello di street photography bisognerebbe magari coniarne uno proprio tutto particolare, anche perché secondo me dentro la street ci sono mille altri generi che potrebbero essere anche banalmente il genere del ritratto, il ritratto di strada, piuttosto che l'architettura, piuttosto che il paesaggio, ma insomma nella street photography si raggruppano diversi generi, addirittura Nick Turpin, che ha un po' aperto il mondo della street photography su internet e con il suo collettivo, dice che secondo lui dalla street photography deve, la street photography è la fotografia con la F maiuscola per antonomasia, dopodiché da lì partono i diversi generi. Sì, ecco io sono un po' inquieto da questo punto di vista, perché non credo che si possa leggere la storia solo con gli occhi del presente. Allora, rileggere tutta la storia come sull'occhio del presente vuol dire negare la storia. E questo non va bene e non fa bene. Oltretutto nasce in un periodo recente e improvvisamente diventa la fotografia. È vero che i fotografi sono molto autoreferenziali, sono teorici di se stessi, però facendo così secondo me si compie un grave errore, perché sembra di indebolire addirittura il concetto di street, come se avesse bisogno di padri fondatori, invece ha bisogno di punti di riferimento. Allora è indubbio che nel momento in cui pensiamo a certe foto di Cartier-Bresson, certo non tutte, ma certe foto scattate a Parigi o a Duanot, certo che viene in mente la street, ma diciamo che quelli sono i maestri, i punti di riferimento, non altro. E un po' adesso facevamo un rapporto molto particolare. Se nella storia dell'arte uno andasse a vedere le opere di Hieronymus Bosch, troverebbe delle tracce di surrealismo, però lui lavorava alla fine del Quattrocento. Ed è vero che le sue opere sono risposte al trado, quando c'è passato Miró davanti al Giardino delle Delizie, è rimasto folgorato e si vede che ha influenzato. Ma possiamo allora dire che per questa ragione Hieronymus Bosch, senza neanche saperlo, era un surrealista, nel surrealismo nasce con caratteristiche molto precise, non possiamo tornare indietro, secondo me. Certamente detto questo sono dibattiti aperti, è bello perché si discute, non è che dobbiamo stabilire. Però mi piace poco quando uno dice siamo arrivati noi, guarda un po' gli americani, ecco, ma no, sono arrivati. Allora questo mi lascia perplesso, ma detto questo non è che non discutiamo proprio di street, no? No, ma infatti non trovo questa arroganza da parte degli street photographer di adesso, sinceramente, anzi fanno tanto riferimento a questi padri della street inconsapevoli di esserlo e cercano forse un'identità che è un po' difficile da trovare, perché effettivamente, come si diceva prima, è un termine che racchiude diversi generi, diversi stili, diversi modi di fare foto, veramente, è veramente molto difficile. E soprattutto ci pensiamo un po' tutti street photographer, perché per qualcuno basta appunto uscire per strada, fare delle foto a personaggi che passano, anche strani, stravaganti, e quello può essere per questi fotografi o amatori una foto di street. Vai a capire qual è appunto il confine, no? Ci sono dei parametri che possono dare un'idea di una vera street. Ecco, per esempio, il parametro è di fotografare delle persone che non sono in posa, evidentemente, inconsapevoli di essere fotografate, di fotografarlo per strada e farsi un po' cogliere da quello che avviene, no? È quello che fanno i grandi, no? Abbiamo alcuni esempi, Meierewitz piuttosto che Alex, beh, ecco, questo, dicevamo che proprio questo è un caso che sembra, sembra di fotografia di strada, perché in realtà sono tanti fotografati, allora i bambini sono tanti fotografati, figurati oggi, non si può fare tutto quello che si vuole. Ma ecco, una foto come questa, straordinaria, certamente non può essere messa in posa, no? Perché coglie un istante particolare del... Ma è proprio qua la difficoltà e secondo me la difficoltà poi nel dare una definizione, no? A questo genere, perché... Perché nella fotografia di strada ci deve essere la spontaneità, la schiettezza, il non entrare in quella scena rovinandone i confini e i momenti topici, ma deve esserci anche comunque un minimo di senso compositivo, ci deve essere una storia dietro... Esatto, quindi, cioè, quando una foto scattata così al passante che sta andando a prendere il tram ha la stessa valenza di una foto che abbiamo appena visto di Mairowitz, capito? Quindi, o di Alex Webber... Tutto, cioè, voglio dire, fra... Adesso noi ormai siamo abituati a distinguere fra l'immagine, che è una delle milioni di immagini che vengono scattate, e la fotografia vera e propria, che è quella su cui ci si sofferma, su cui... che ti permette di... E questo, vabbè, sulla qualità, vabbè, non c'è tanto da discutere, insomma, no? Alcune cose sono straordinarie, altre non lo sono. Poi ogni tanto la street prende strane strade, no? Ma il fatto che alla street possono accedere un po' tutti... Certo, certo, è giusto. ...può effettivamente portare più di altri generi a fraintendimenti e a fatiche proprio nel dare un giudizio a quella foto e nel considerarsi in quel genere anche, no? Anche perché una foto di strada può avere esseri umani, può non averli, ci possono essere mille tipi di progetti all'interno di una foto, che appunto non prevede... possono non prevedere esseri umani, come invece... Nella maggior parte dei casi però li prevede, vero? Nella maggior parte dei casi, diciamo, sì, però non necessariamente, anche perché la presenza umana la si trova attraverso magari altri oggetti, piuttosto che altri... Sì? Per quello dici che ci si riferisce anche all'architettura in alcuni casi, no? Assolutamente, sì, è fatta dall'essere umano, per cui ovvio che non deve essere la foto di architettura a fine a se stessa. Beh, non è basilico, insomma, per intendersi, certo. Però sicuramente anche quell'aspetto viene valorizzato nella street, le geometrie, le ombre... Sì, poi noi abbiamo degli esempi che abbiamo scelto anche particolarmente pregevoli, insomma, no? Sì. È evidente che se abbiamo Alex Web di fronte, vabbè, insomma, è chiaro che... Però anche loro escono, viaggiano in un modo molto particolare, no? Vanno alla ricerca di qualche cosa quando si muovono. E tendono, mi sembra che anche questa sia una caratteristica da sottolineare, tendono a non farsi vedere come fotografi. Allora, secondo me, anche qui non c'è una vera e propria regola, nel senso che è importante veramente è che chi va fuori a fare fotografia sia assolutamente consapevole di quello che vuole fare. Consapevole anche del fatto che può non succedere nulla ed esce anche senza sapere esattamente che cosa vuole fotografare, perché ci sono fotografi che escono sapendo già, avendo già in mente un bel progetto nella propria testa e quindi scartando tutta una serie di momenti che gli possono passare davanti, ma che in quel momento lì effettivamente non suscitano la loro attenzione, oppure fotografi di strada che comunque invece la strada in quel momento imprevedibile diventa il loro palcoscenico, dove poi può nascere la fotografia particolarmente, da momento decisivo, particolarmente eccezionale, come anche un'idea di progetto, proprio andando fuori ti viene dopo l'idea del progetto, oppure addirittura facendo foto e riguardandoti l'archivio, ti accorgi, il tuo archivio ti accorgi che poi il tuo genere di fotografie mira sempre a un qualche cosa o comunque c'è un filo conduttore che li unisce e quindi magari foto che hai fatto due anni prima, l'anno scorso o adesso le puoi mettere insieme e creare delle storie. Per esempio io non riesco a uscire pensando di fare foto, che ne so, solo ai portoni, i portoni particolari. Sì, non ti piace quest'idea del progetto? Sì, perché mi sembra che mi sfugano poi delle altre cose, invece mi piace uscire con tutti i recettori attivi. Poi naturalmente quando mi riguardo le foto la sera, il giorno dopo, in effetti capisco che ci possono essere degli argomenti che possono essere ampliati, ma proprio perché evidentemente cado sempre in quel genere di fotografie lì. Sì, a te però, e capisco e peraltro condivido, l'idea di uscire e realizzare un progetto in questo modo non piace anche perché secondo me questa è esattamente l'idea del reporter, del reportage. Il reporter esce con un'idea precisa, ha una regia in mente, esattamente come il regista cinematografico, prende, esce, va a cercare una storia o più storie che hanno peso e le trasmette, le realizza nell'aspetto fotografico. Per quella ragione dicevo, ad esempio, Robert Frank esce e dice il sogno americano, quello che voi avete, di cui ci avete parlato, non esiste più. E io con scatti diversi, con migliaia di rullini in realtà, scattati nelle varie parti degli Stati Uniti durante questo vero, te lo dimostro, è una tesi ed è un risultato straordinario. Il fatto che sia stato fatto alcune volte negli interni, la televisione accesa, un bar con nessuno, piuttosto che con persone sedute che manco si guardano in faccia e sono tutte tristi, piuttosto che in altre cose, ebbè quello lì però obbedisce a un... E non può essere street per quella ragione, perché oltretutto non è per niente lieto, mentre spesso la street è divertente, è leggera. Su questo non concordo, sul fatto che la street sia sempre leggera. No, può essere leggera. Può esserlo come no, anche perché dipende appunto che cosa vai a fotografare. È qui che c'è appunto questo confine veramente molto labile tra reportage e street. Vedi che c'è il confine, questo c'è il confine preciso però, eh. Qui dove intendi nella... Sulla fatto di uscire con un progetto oppure di avere, tu hai detto, avere i ricettori pronti, no? Sì. È una cosa diversa ovviamente. Certo, è una cosa diversa. Mi viene in mente, sai che nella tua città c'è un evento particolare, no? Sì. Se fossi un fotoreportage andrei a documentare quell'evento lì, ok? Certo, certo. Come street photographer sicuramente vado in quell'evento lì perché sicuramente lì qualcosa accade. Qualche cosa di diverso, eh certo. Qualcosa accade di diverso e quindi mi piace cogliere al limite tutta la parte, il lato umano delle persone che fanno parte di quell'evento consapevolmente o inconsapevolmente e trovare lì evidentemente il mio ambito, no? L'ambito dello street photographer. Quindi proprio non, come dire, andare a capire che cosa sta accadendo in quell'evento stesso ma tutto ciò che è intorno al corollare. E quindi è tutto molto imprevedibile. Ovvio che se poi uno ha una vena più umoristica o ironica e quell'altro invece un pochino più drammatica è evidente o più poetica o più malinconica. Insomma, dà la sua firma in quel lavoro. Arriviamo ai tuoi di lavori a questo punto. Questi discorsi che abbiamo fatto in generale e credo che non stiamo dicendo delle cose molto diverse nella distinzione fra reportage. Anche perché ovviamente da certi punti di vista ci sono proprio delle comunicazioni, anche dal punto di vista tecnico, no? Per fare un reportage bisogna avere del materiale che ti consenta di muoverti con una certa abilità, no? Non si può fare un reportage col banco ottico, insomma. Beh, questo anche per la street. La street è la stessa cosa, certo. Anche da questo punto di vista, anzi, i due generi si sono evoluti anche in funzione dell'evoluzione della macchina stessa. Cioè, Cartier-Bresson senza la Laika non avrebbe mai potuto fare le cose che faceva. Tant'è vero che fanno nascere la street quando c'è questa incomprensione proprio con la macchina fotografica, leggera. Certo, certo. Prima ovviamente non era possibile. Certo, ci sono tutte queste cose. Invece però, parlando del tuo di genere, perché questo è un discorso generale, ma noi siamo qua a parlare anche del tuo, tu hai delle caratteristiche particolari. Intanto ti guida, come Fiedrouge, ti guida l'ironia, evidentemente, no? Eh, mi sa proprio di dire. Sì, non dolertene. No, non me ne duolo. Non me ne duolo. Sì, non so bene da che cosa mi venga. La cosa buffa è che io ho cominciato assolutamente inconsapevolmente di fare foto di strada. Cioè, non sapevo che genere fosse. Ho proprio cominciato da zero. E quindi, non lo sapevo, e quindi queste fotografie già con questa vena umoristica mi venivano spontaneamente. E poi ho scoperto veramente a distanza di tempo che potevano essere, ovviamente con tutti i giusti paragoni, molto simili o quantomeno ricordassero alcune foto anche di fotografi famosi o comunque fotografie note che probabilmente, evidentemente, sempre inconsapevolmente, le avevo acquisite, interiorizzate nella mia vita. Perché io ero quella che faceva fare le foto agli altri. se avevo di fianco qualcuno con la macchina fotografica, dicevo, fai quella foto, fai quella foto, fai quella foto. Io non muovevo un dito. Facevi la direction. Finché hai deciso che... Sì, finché ho deciso che, no, vabbè, non potevo sempre chiedere agli altri di farle foto per me. Perché diciamo che la parte più tecnica, più legata alla macchina fotografica, a me non piace tantissimo, no? E per fortuna, come me, la pensano in tanti... Sì, non è poi così tanto importante. Sì, perché poi alla fine la cosa veramente più importante è il risultato ed è un po' l'occhio, un po' l'intuito, un po' il contenuto finale, insomma. Però tutto è scattato in un certo momento, no? Quando tu facendo un corso hai iniziato quello che poi si sarebbe chiamato Illusioni Manifesta, no? Sì, 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 è vero. Tutto sommato avevo deciso che forse qualche dritta l'avrei dovuta avere. Quindi ho iniziato con il primo corso proprio di base, di fotografia. E con le prime uscite io effettivamente fotografavo cose che altri non fotografavano. Ma a me sembrava tutto assolutamente normale. Anzi, mi sembrava di fare anche foto piuttosto banali e che tutti potessero vedere. E mi sono accorta soltanto dopo che effettivamente non era per questa cosa. Per carità, per tanti, ma non per tutti. Quindi tutto è partito da lì. Il tuo, poi tu hai fatto mostri, hai fatto libri, insomma, hai ormai un percorso anche. Ma è divertente come è nata Illusioni Manifeste. Intanto dobbiamo spiegare che cos'è. Beh, spiegarò tu che cos'è. Va bene, lo spiego io. Va bene, dai. Si chiama Illusioni Manifeste un lavoro realizzato fotografando i grandi manifesti pubblicitari che soprattutto a Milano che hanno invaso la città e che però tu hai fotografato girandogli intorno cercando delle prospettive diverse in modo da intercettare e quindi negare il messaggio pubblicitario e far emergere invece qualche cosa di molto diverso talvolta surreale, talvolta ironico talvolta sarcastico come talvolta succede e si chiama Illusioni Manifeste perché perché sono manifesti perché sono delle vere e proprie illusioni alla fine a me piacciono molto gli allineamenti quindi questo cercare delle prospettive diverse e fare in modo che alcuni oggetti alcuni elementi della strada possano, come dire, giocare con Sì, adesso magari ne vediamo anche qualcuno Ok, in questo caso con i manifesti pubblicitari che effettivamente nella nostra città, Milano ma insomma nelle città più grandi sono molto invasive e anche il loro messaggio è fastidioso per cui è stata un po' una reazione sempre in tema con una vena ironica cercare di contrapporre il loro messaggio con qualcosa che poteva essere solo mio e poi mi piaceva l'idea che questi messaggi questi manifesti in fondo durassero poco ce ne abbiamo un certo solo momento per cui una volta fotografati poi venivano anche tolti e quindi non ci sarebbero stati più questo mi piaceva anche l'idea che ecco c'è una cosa che mi interessa perché sono d'accordo che il punto di vista tecnico dal punto di vista proprio tecnicistico non è poi così importante come ecco questo è un esempio però mi interessa invece il punto di vista tecnico del tuo modo di girare intorno cioè tu metti l'occhio all'interno dell'oculare e poi giri finché trovi un qualche cosa finché trovo come ti dicevo quegli allineamenti che stavamo vedendo ecco per esempio la donna con il cartello stradale sulla bocca che poi gli si può dare veramente tutta una serie di significati che vanno cioè quella era probabilmente una marca sportiva pubblicizzava la Nike non so che cosa e cambia completamente quel messaggio stai zitta no? Qualcosa del genere sembra di volerli sì stai zitta piuttosto che sì può essere un manifesto veramente sul femminismo ma comunque ecco anche questo no? del pallone forse era la prima dicevi questo del pallone è stata proprio la primissima che io ho visto ero in giro con il cellulare inizialmente sono ritornata a rifare la foto con la macchina fotografica e lì banalmente avevo visto che non c'era un lampione e che quella palla poteva prendere il posto del lampione quindi sembrare questo gioco ecco in effetti una cosa che io non faccio mai ma che comunque non è prevista nella street in generale è la post produzione quindi ovviamente le proporzioni sono anche un po' particolari perché comunque non le cambio in post produzione quello è quello che ho visto e quello è un po' quello che rimane questo anche se poi immagino che sia facile per chi le guarda in modo superficiale come può succedere come in me succede molto spesso puoi pensare che invece le hai fatte in post produzione vabbè fin qua mi avevano persino chiesto se ero stata io a togliere con Photoshop il lampione e mettere la palla figurati cioè io già uso Lightroom e non Photoshop quindi già tante cose non posso farle e comunque Lightroom lo uso veramente giusto per magari raddrizzare qualcosina ecco non ho mai eliminato niente anzi forse nelle mie foto la particolarità è quella di mettere dentro proprio quegli elementi che normalmente ai fotografi danno molto fastidio quindi lampioni, fili cartelli, stradali cioè tutte quelle robe che infastidiscono proviamo magari a vederne qualcuno di fila ecco questa per esempio oltretutto a Milano è praticamente impossibile togliere tutti questi fili allora ci sono per cui a quel punto ho detto va bene mi rassegno ma anzi ma proprio mi è venuto subito spontaneo utilizzarli come parte della fotografia beh questa è una prospettiva che tu hai scelto qui sì c'è un bello schiacciamento però questa non si poteva non vedere ma al di là di questo progetto sui manifesti ho sempre nelle mie foto cerco sempre di fare questi allineamenti e di utilizzare comunque elementi della città che veramente potrebbero essere fastidiosi e tenerli come invece quasi protagonisti al di là di questo progetto e poi c'è anche l'altro perché poi ecco questa poi è una foto particolarmente interessante perché è il discusso della luce no vero? sì questa era l'immagine ingigantita di quest'opera pittorica sulla era vicino a Palazzo Reale in Piazza Duomo e aveva già ovviamente il quadro stesso la luce messa in quel modo lì decisa dal pittore però lì c'era anche questo lampioncino acceso e sembrava quasi che il lampione fosse quello che illuminava i loro volti e questa casa... c'era un'altra di una pubblicità di un computer con le stesse caratteristiche sì è vero è vero è vero e tra l'altro lì sotto c'è anche una bellissima cestino dell'immondizia ecco probabilmente qualcun altro l'avrebbe tolto con Photoshop a me piace anche per questo aspetto ecco e questa è una caratteristica della street cioè di lasciare le cose come stanno senza stare troppo attenti all'aspetto estetico è un'altra cosa assolutamente che io non giudico nel senso che chi è in grado di usare Photoshop ma per fare qualche cosa che va al di là della street che diventa quindi un lavoro creativo cavoli benvenga allargo alla creatività anche con Photoshop però... io ricordo un amico che faceva fotografie di interni aveva fatto un bellissimo ufficio erano andati, tornati a casa si sono accorti del cestino della carta straccia che era un cestino bellissimo però il cestino andava bene e allora l'han tolto non solo ma io mi sono appena appropriato di una fotografia dell'Ottocento dove si nota proprio l'intervento sulla lastra per togliere una figura umana in un ambiente perché si faceva così anche allora ma non erano così bravi quindi qualche traccia rimane e me la sono presa perché... per quello? proprio per quella ragione perché è un segno di... perché in realtà quelle erano delle rovine antiche così dovevano rimanere la figura le rovinava non è proibito però certo in questo genere ecco poi magari ti dicono così perché trovano... per la ragione per cui tu l'hai vista e loro no no? perché questo succede spesso di dire ma... mi ricordo in altre epoche una foto che aveva fatto Mario De Brasi dietro il Duomo e c'erano questi alberi in fiore e mi dicevano che era un fotomontaggio perché i termini allora non c'erano perché non era possibile che ci fossero quei fiori e invece c'erano semplicemente che chi ci passava come spesso succede non guardava o non passava nei momenti giusti mentre lui... sì lui la guardava nei momenti giusti e quindi poi tu allinei questa ti sembra mangiare beh questa qui e poi adesso c'erano in giro qualche anno fa non so se lo stanno facendo ancora adesso queste foto fa erano pubblicità delle foto che sa fare l'iPhone no? sì sì certo e quindi mi regalavano già questi manifesti mi regalavano già l'idea e questa bambina con la bocca aperta non si poteva non trovare qualche cosa da metterle in bocca ma mi è venuto immediato questo cartello qua che entrava nelle fauci sì poi dopo guardandole viene logico però bisogna pensarle prima cioè tu sei capace di vederle poi dopo è facile sì sì vederle mi viene proprio facile però ecco tu ti sei mi ricordo che ti eri un po' bloccata sulle illusioni manifeste dicendo poi dopo che cosa faccio sì anche perché lì effettivamente c'è a parte che vabbè io credo che finché esisteranno questi manifesti e finché io abiterò e vivrò e lavorerò a Milano e li vedo credo che continuerò a fare foto con questo infatti è abbastanza recente viste le mascherine sì però come si dice diciamo che è stato un lavoro che mi ha aiutato a entrare nell'ambito di questo genere fotografico perché non avevo da confrontarmi con gli esseri umani veri e propri e soprattutto con i tempi velocissimi perché poi ci sono dei momenti di fotografie dove dove invece o cogli quell'attimo lì o non lo cogli più invece in queste tutto sommato io avevo tutto il tempo certo per girarci intorno come dicevi tu e trovare l'allineamento perfetto senza che mi sfuggisse via il protagonista perché ero o una statua o un cartello quindi insomma mi ha molto favorito mi perché comunque la fotografia la street photography con le persone è difficile è tutto molto più complicato anche perché è facile cadere nel banale molto facile e nello stesso tempo insomma bisogna anche rispettare veramente dei tempi dei insomma non è facile io infatti sono passata diciamo così dai manifesti sui riflessi perché lì incominciavo effettivamente a fotografare le persone però loro non sapevano assolutamente che stavo fotografando loro in realtà pensavano fotografassi la vetrina ok poi un rimbalzo no? ma assolutamente infatti alcune volte si fermano le persone pensando di rovinare la foto e quindi però attraverso il vetro anche quello è stato per me uno schermo un po' un passaggio prima di prima di quando arriverò a fotografare come come Gibson le foto con il come si chiama le foto alle persone con il flash incinti i dendole e diciamo che che sì quindi i riflessi sono un altro un altro progetto che mi piace sempre molto anche questo si vede ce ne sono tanti ce ne sono tanti spesso sono manichini nelle tue fotografie peraltro no? beh manichini diciamo che fanno parte anche quelli che sono credo abbastanza un oggetto trattato da da chi gira con la macchina fotografica per strada perché veramente sono interessanti certo è sempre difficile trovare una cosa originale e trovare una cosa che che vada un po' al di fuori delle cose già viste no? perché di cose già viste ce ne sono tantissime io ne ho fatte tante altre di cose già viste beh certo però però giochi anche sulle proporzioni anche ci sono spesso ecco come in questo caso ci sono o persone questo è un manichino credo che improvvisamente salta fuori dal nulla mentre prima erano degli uomini piccolini che stavano sotto una cornice anche questo giocare sulle proporzioni anche in questo caso questa ripetizione perché è proprio è proprio vero che se tu guardi una vetrina ma non guardi quella roba lì non vedi niente come anche adesso qua non l'abbiamo messa ma le foto che hai fatto a Parigi attraverso attraverso un vetro si vedeva al di là del vetro appannato sì ma infatti è interessante secondo me sempre come ognuno veramente in uno stesso in un piccolo luogo ogni fotografo possa cogliere una cosa completamente diversa fotografando proprio anche la stessa o lo stesso spazio o addirittura quasi lo stesso soggetto ma veramente ognuno poi può cogliere una cosa questo è vero sempre perché tu puoi metti una bottiglia dieci fotografi verranno dieci bottiglie ma ma il problema è poi un altro che è la strada che è la strada che cambia continuamente sempre ma di più nel senso che anche se tu torni nello stesso luogo che il giorno prima ti aveva dato una grande ispirazione hai fatto una foto che ti piace ritorni lì non la trovi più quella cosa lì non la trovi più perché non sei più nell'animo tuo o perché secondo me sono tante cose insieme anche questo sicuramente non hai più la testa che avevi il giorno prima o anche la mezz'ora prima ma poi perché proprio hai sempre comunque degli occhi diversi e perché quel palcoscenico lì quello della street è veramente talmente improvvisato è pieno di di comparse che ogni volta si fanno agire in un modo diverso cosa bisogna fare per essere ricettivi come dicevi c'è un qualche cosa che ti guida o è distinto semplicemente come io penso allora sì è l'istinto anche perché ci sono delle volte che si esce e questi canali ricettivi non si attivano la sindrome del foglio bianco insomma sì oppure si attivano dopo un po' effettivamente esci pensando poi niente e poi a un certo punto improvvisamente arriva il furore e inizia a vedere delle cose quindi qual era la domanda no quello che stavi dicendo proprio il se uno si fa guidare poi da questa intuizione l'intuizione l'istinto sicuramente da questa poi si cerca di trovare comunque come dire dei percorsi che hai fatto prima per vedere se ti riconducono a delle cose interessanti quella ironia di cui parlavamo no che caratterizza certo sicuramente anche nelle ombre per esempio no che è un altro di quei temi sì beh certo anche le ombre fa sempre parte di sono anche quello è un progetto quello delle ombre e anche lì c'è l'essere umano che si avvicina sempre di più ma ancora non è non è il protagonista non è il protagonista proprio principale e e quindi mi piace avvicinarmi evidentemente all'essere umano proprio piano piano anche la casualità parlavamo delle foto scattate a Parigi eravamo per una mostra che abbiamo fatto in un'altra occasione con la fondazione 3M e però pioveva sempre e quindi ti sei trovata nella necessità di fare foto a perché ero a Parigi solo quel giorno certo e quindi dovevo approfittare certo e quindi lì i recettori erano attivissimi proprio perché c'erano effettivamente delle condizioni disastrate tali per cui come dire per cui ho dovuto ho dovuto attivarmi e cercare di trovare i soggetti più in fretta possibile e la cosa interessante io ho visto queste cose poi ho scoperto dopo che era la libreria Shakespeare & Company e invece perché compariva invece soltanto sì comparivano solo queste immagini di queste donne dietro questo vetro pieno di 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 umidità no della pioggia dentro era più caldo e sembravano veramente dei dipinti dei quadri cioè lì effettivamente non so quanto quanta foto sia la mia e quanto sia in realtà già fatta lì così sì bisogna saperlo cogliere dunque ci sono un paio di domande allora Filippo Monti ci chiede riguardo alla street photography ma anche la privacy come si fa a fare street in Italia con tutte le restrizioni che ci sono giusta domanda ecco e anche Enrico Querci si unisce alla domanda di Filippo soprattutto se nelle immagini dovessero esserci dei minori già questo è un bel problemino rosso ma allora tra l'altro per fortuna a me capita poco no di di battermi in questa cosa comunque è evidente che se la fotografia non va a ledere l'etica non non succede nulla non non si scappa in niente ma e poi c'è un'altra condizione se l'essere umano figura la persona ti sta guardando mentre tu gli stai facendo la foto è un po' come se ti desse il consenso ovviamente se non ti insegue con con la borsa e te la dà in testa certo certo poi chi fa foto veramente alle persone anche in modo più ravvicinato eccetera deve creare un minimo di relazione con quella persona lì per cui quando si dice che nella street il fotografo deve essere distaccato non è sempre così a volte in realtà nasce qualche cosa magari prima magari dopo la foto però ci può stare e quindi già lì senza dare il foglio del consenso ma te l'ha già dato il consenso il personaggio io credo che poi la street abbia un grande merito che è quello di intaccare queste regole restrittive perché esattamente come un tempo era proibito fotografare i concerti oggi cosa vuoi fare uno va con un buon telefonino impedisce non gli si può impedire di fotografare i concerti quindi da questo punto di vista certo sui minori è sempre un problema sui minori anche se tante foto ma ripeto se non vengono messe in un contesto dove vanno a ledere però per esempio certo che poi se sei sfortunato e becchi quello che si riconosce e lì non voleva essere no perché poi tu fai delle foto così però molte delle tue foto comparano in pubblicazioni o in mostri quindi questo può essere allora i bambini secondo quello che penso io non so se condividi ma non è che non bisogna fotografare bisogna fotografare in modo che non siano riconoscibili ma no infatti assolutamente allora di spalle in un'altra però questa è la cosa più delicata perché perché è così insomma lo so che si cancella a proposito non si cancellerebbe la metà delle foto che ha fatto Bubà che ha fatto Villonis che ha fatto maledizione però vabbè sì che poi ci sono delle contraddizioni pazzesche perché poi se tu vai su Instagram vedi foto di bambini esatto pubblicate così veramente ma anche fatte dai genitori stessi e messe proprio alla Mercedes c'è la famosa storia del bacio davanti a Parigi fatta da Duanot davanti all'Hotel Deville beh qualcuno poi ha protestato voleva anche dei soldi e c'erano una serie di coppie che si erano presentate per denunciare a Duanot perché si riconoscevano in quella foto peccato che lui avesse preso due figuranti che conosceva benissimo è interessante il potere della fotografia ecco poi dopo tu hai questi aspetti ironici che funzionano bene quindi ma in effetti allora io mi diverto in effetti a fare fotografie e su questo non abbiamo dei dubbi poi non le stimi abbastanza posso dirlo? sì sì puoi dirlo perché è vero meno male che c'è qualcuno che non sono io è il pubblico che le apprezza ma sì ma perché vabbè ma questo fa parte del mio modo di essere sono sempre abbastanza critica su tutto meglio essere critici che sbruffoni però ah no non mi appartiene credo questa cosa qua questo questo è ecco ad esempio è proprio questa questa è una foto recente sì sì questa è proprio recentina e qui niente qua proprio qui camminavo e ho visto questi cavalli parcheggiati già l'idea che ci fossero dei cavalli che venivano parcheggiati perché poi i poliziotti o chi sono i carabinieri non so chi siano poliziotti andavano a bersi il caffè è forte e qui c'erano un po' di cose che mi piacevano il casco che sembra una testa la gamba del poliziotto che sembra una gamba del cavallo ma soprattutto fondamentalmente era la statua a cavallo brava hai fatto bene perché in questa foto allora il fruittore io come primo fruittore vedo vedo subito la statua equestre appoggiata sul cavallo dopo vedo le altre due cose che hai detto dopo vedo il casco e poi vedo le gambe del allora ecco spesso nelle tue foto ci sono un po' di cose questi richiami più cose più sì sì il motivo in questa fotografia sicuramente è stata la statua equestre che mi piaceva proprio lì sopra dovevo assolutamente trovare il modo di farcela stare sopra e poi mentre ero lì vedevo che c'era il poliziotto che si nascondeva dietro i cavalli e quindi ma ti vedeva per curiosità sì sì mi vedeva che facevo le foto ma credeva che facessi le foto ai cavalli anche perché non ero l'unica si sono messi a fare non tutti però hanno fatto una foto così ce ne sono alcune che sono particolarmente ecco questa ad esempio e lo so che bisogna essere fortunati a trovare uno che esce a fumare se no la foto non funziona no ma ce ne sono tanti allora se io potessi avere un microchip agli occhi ma io farei almeno della macchina fotografica mi interesserebbe sì questo l'hai detto nell'intervista in realtà tu fotografi con la mente ma io anche quando non hai la macchina fotografica dicevi sempre sempre e quindi se non l'avessi sarebbe anche un impiccio in meno ma comunque e qui sì beh allora ci sono delle foto che devi stare un attimino ad aspettare che succeda qualcosa quindi io prima non avevo visto il cartello avevo visto solo l'omino che era lì fuori che fumava poi adesso che ci sono queste belle sigarette elettroniche che fanno questi bei fumi sono interessanti da riprendere e questo signore l'ho infatti fotografato anche da solo senza il fumo senza il cartello così perché mi piaceva lì e poi perché stavo aspettando che accadesse qualche cosa poi a un certo punto ho visto che quel cartello sempre se mi giravo in un certo modo lo beccavo e indirizzavo l'omino e siccome a me piace sempre utilizzare i cartelli stradali comunque basta ma anche queste nuvole queste cose no prima avevamo visto anche ah ma sì 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 far allineare allineare far dialogare più elementi tra di loro sì sì questa è una cosa che che mi attira sempre cioè con questo mi viene proprio naturale certo sì e poi queste possono essere inserite in contesti cioè le fotografie vengono usate poi dopo cioè adesso faccio un esempio perché è recentissimo di una mostra che uscirà fra poco quella dei 17 obiettivi ah sì a un certo punto tu fotografi lo zampillare dell'acqua e basta ma in realtà no quella fotografia in realtà ha un un allineamento particolare beh sì un fotografo lo zampillare dell'acqua cerco subito l'allineamento con la cima della montagna ecco con la cima della montagna sì 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 quindi una foto che tu non hai molto considerato no giusto sì è vero salvo che poi ripresa all'interno di un progetto dove si parla dell'attenzione che noi dobbiamo dedicare all'acqua quello che era un gioco gioco nel senso nobile del termine improvvisamente assume però un significato molto serio perché è il ciclo dell'acqua quello che vabbè ma questo è il compito poi del buon critico sì certo che quando vede un'opera d'arte non intendo le mie foto ma un'opera d'arte sa dare il gusto valore significato insomma sai quanto acquisisce in valore un quadro una foto però è reciproca la cosa perché tu puoi avere queste idee io per esempio ho cercato molto una foto di questo genere però trovavo l'acqua zampillante fra i sassi che però non è la stessa cosa in un'immagine sola far capire la bellezza di un'acqua zampillante il fatto che provenga da là e il fatto che è un oro sì sì beh insomma cioè non è stata lo dico perché quello che si diceva prima non è non sei uscita con l'intento di fotografare tutto questo l'hai trovato e poi io vedendolo gli ho dato un significato però tu l'hai l'hai reso ma infatti è qui che l'hai reso accettabile insomma l'hai reso accettabile infatti secondo me è importante poi attingere dal proprio archivio e vedere sì che foto possono effettivamente raccontare non dico un'unica storia ma comunque mettere insieme qualche cosa in comune anche se sono foto veramente fotografate in tempi diversi in momenti diversi quindi vedo più un progetto a posteriori che non pensato prima però ciò non toglie che possa cambiare idea e anzi invece sono sempre un po' alla ricerca dell'intuizione progettuale top capito? sì che vada in una direzione piuttosto che nell'altra tu ad esempio hai un bellissimo progetto di composizione legata alla pittura a dei collage proprio fatti fisicamente che però non ha ancora sì è lì è lì e poi dopo crescerà è lì pronto è lì è da sviscerare come dici tu a me piace tantissimo l'aspetto creativo e anche quello più di come si dice di di manipolazione ma di oh mamma non mi viene la parola di elaborazione aspetta insomma di lavorare di ritagliare e di di incollare adesso non mi viene il termine ma ovviamente fa niente mi verrà e di manualità ah in questo senso sì certo mi è venuto e mi piace mi piace tantissimo mi è sempre piaciuto questo prima ancora della fotografia per cui va bene così insomma ma se posso io stavo per farti l'ultima domanda che però ma ci sono Maria Rosaria Raspa che dice che macchina fotografica e obiettivi usi bellissime foto complimenti grazie mentre Filippo Monti dice la tua strita è più attesa è di attesa o di ricerca di andare in giro o di entrambe allora prima la prima allora la prima io una banalissima Nikon 3003 e una Fuji con uno zoom però giusto perché con uno zoom ma perché sennò poi non riesco a fare quella a proposito di certe prospettive schiacciate però ribadisco che per me la macchina fotografica veramente per carità capisco che se una macchina fotografica cioè per me la cosa importante di una macchina fotografica è che abbia i pulsantini ben chiari che i numeri siano ben scritti grandi perché se devo incominciare a mettere gli occhiali per vedere cosa sto facendo quindi deve essere proprio una cosa comodissima allora non il cellulare perché non mi dà tutta quella soddisfazione anche se il cellulare effettivamente ogni tanto ti risparmia una serie di fatiche come quella per esempio che non ti fai notare col cellulare nessuno sa che stai fotografando quindi puoi anche effettivamente permetterti di fotografare all'interno di locali situazioni che ritieni utili da fotografare però al di là del cellulare la macchina fotografica per me deve essere comoda semplice e facilmente gestibile la Fuji è una buona macchina e la Nikon è la macchina non è neanche un full frame ma non è questo la voglio cambiare adesso la mia Fuji ma non ho ancora deciso con quale macchina ma le caratteristiche devono essere un po' quelle di essere però questa invece se è più di attesa o di ricerca è interessante anche se io credo di sapere la risposta allora è di entrambe nel senso che l'attesa è divertente perché l'attesa devi sapere devi trovare un luogo che capisci che può veramente essere il luogo dove accadrà qualcosa di interessante e quindi ti piazzi lì oltretutto ti piazzi lì e a un certo punto diventi veramente invisibile perché la gente a un certo punto non si accorge più che ci sei e quindi con comodo e poi speri che effettivamente avvenga quello che tu ti aspetti una cosa ma che avvenga qualcosa di più di quello che ti aspetti e invece questa è l'attesa l'altra è andarlo a ricercare sì mi è capitato anche di fare pedinamenti di fare inseguimenti perché vedi qualcuno che è effettivamente veramente interessante ma che fotografato così perde del suo interesse ma se poi lo accosti a qualche cosa a cui si avvicina piuttosto che riesci ad allineare quello che è in mano con qualche cos'altro allora sì allora certo lì lo insegui lo lo pedini quindi sono un po' tutte queste cose qua io ti ho visto fare noi non abbiamo parlato dello still life perché pure questo è stato ma ti ho visto poi elaborare uno still life prendendo degli oggetti invece delle persone e anche in questo il movimento quella manualità fino a creare con 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 gli oggetti delle figure antropomorfe no anche se erano poi oggetti ferraglia ferraglia era ferraglia sì sì vabbè lì c'è dentro un po' di tutto la manualità la creatività e anche quell'intuizione improvviso quell'insight che scatta certamente ma sì per carità anche lo still life non è male appunto non è male lì ti avevo costretta lì mi costretta ma certo era venuto un lavoro bellissimo figurati se mi sarei mai messa a fare una roba però avevo capito che potevi farlo ma almeno quello me lo concederai sì ti do atto che è venuto fuori comunque una cosa carina per una mostra al museo della scienze che adesso mi hanno anche chiesto di rifare sì e quindi proverò a rifare questo tipo di lavoro su commissione ecco esatto sì beh ma insomma guarda là dove si può mettere la creatività cioè veramente tutto è ecco io direi che possiamo concludere se ti va con una domanda che poi farò a tutti allora quanto quanto c'è nelle tue fotografie di te stessa cioè guardando se uno guarda le tue fotografie ti scopre ti conosce no per niente nel senso scopre di me la parte che io faccio vedere normalmente che è in genere quella più allegra euforica sì sicuramente simpatica ok quindi sicuramente anche umoristica cioè io sono quella per tantissime persone no ma quelle che magari mi conoscono meno in realtà certo quindi quello che c'è veramente dietro un po' questa questo schermo non viene fuori per niente nelle mie fotografie le mie fotografie viene fuori quello che voglio far vedere di me che però è parte di me sicuramente anzi è diciamo il quello che mi fa stare in bilico nelle cose no quello che mi permette di affrontare le fatiche le difficoltà che la mia vita mi mette davanti l'aspetto diciamo più giocoso e più e più allegro che compensa quell'altra parte ci sono fotografi che invece riescono a essere molto introspettivi e quindi a tirare fuori veramente quello che hanno dentro che magari è più è chi lo sa perché poi è chi lo sa certo che è più torvo io no io credo che il dentro non ci entra nella fotografia tu pensa che Socrate si è scoperto sul punto di morte che era un pessimista e pensa che è stato scoperto da Nice poi secoli dopo neanche si sa però voglio una risposta secca se io definissi le tue fotografie sincere ti riconosci? secca te la devo dare sì o no secca no secca nel senso di le mie fotografie sincere sono sincere le tue fotografie sincere nel senso che quello che vedo fotografo sì e se se questo è inteso di sincero cosa intendi per sincere? che c'è un rapporto diretto con il mondo che fotografi e non e non troppo studiato non troppo articolato non troppo rigido ecco no 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 ma non ma credo che proprio questo genere di fotografia non te lo possa permettere di essere lì troppo studiato e troppo ma no assolutamente quindi sì sotto questo aspetto sono molto spontanee e quindi sincere sì poi ogni tanto possono essere inquietanti c'è un'auto posteggiata di fronte a un muro con scritto uscito fa sorridere ma può essere una metafora terribile della vita tante fotografie sono metafore in effetti e mi piace fare metafore con la fotografia ma penso proprio che la fotografia sia metafora e quindi è proprio la è un po' rendere facile dare una spiegazione a quello che è un concetto un po' difficile della vita quindi mi piace l'idea della fotografia anche proprio intesa come metafora della vita perfetto sì va bene grazie grazie a te grazie a tutti 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 grazie a tutti